A Minervino Murge un murale dedicato a Lina Wertmüller. L'opera è stata realizzata dall'artista Daniele Geniale nell'ambito di un progetto di valorizzazione urbana e rigenerazione culturale. Marilena Pastore. Lo sguardo di Lina Wertmüller da qualche settimana si posa sulla città di Minervino Murge. Ad immaginarla così è stato Daniele Geniale, street artist già noto per i suoi murales, che ha firmato questa volta insieme a Bianca Peloso dell'associazione culturale Andrea Ground il progetto Cry e Post Cry, inserito nella cornice del bando della regione Puglia Star Lab in collaborazione col comune di Minervino Murge. Qui nel 1963 Lina Wertmüller ha girato un film, tra l'altro il suo film di esordio alla regia, chiamato appunto I Basilischi, nel quale lei ritrae un costume che è quello meridionale essenzialmente, quindi estendibile a tutto il sud e a un modo di pensare tipico della nostra parte geografica, trattato anche da Carlo Levi in Cristo si è fermato ad Eboli, da cui appunto ha preso il titolo, il progetto Cry e Post Cry, infatti viene citato proprio nel libro di Carlo Levi, meraviglioso, in cui lui dipinge il Cry e il Post Cry, che sarebbe domani e dopodomani, come sappiamo in dialetto è crep, scre, nelle varie declinazioni dialettali della zona, e significa domani e dopodomani. Carlo Levi dice che però questo domani e dopodomani qui al sud vogliono dire mai. Noi con questo progetto ci auguriamo e invitiamo ad uno sguardo nuovo, che è quello proprio della Wirtmüller stessa, che in una nostra ipotesi, in un nostro viaggio mentale, torna a Minervino e la riguarda attraverso le tende, attraverso il quale si può andare oltre, quindi vedere nuove prospettive, andare lontano grazie alla cultura. Ho dipinto questo gioco temporale che comincia 60 anni fa e ritorna oggi, con la Sineddoche di Minervino, con questa tenda, loro qui le chiamano Rerrez, che appunto è ciò che rappresenta un po' l'attitudine del meridionale, quella di aprirsi, di stare fuori, ma di stare anche un po' all'interno, avere il controllo, tutte queste dinamiche tipicamente del sud in cui la piazza, la strada è più vissuta. E proprio per strada ciò che abbiamo voluto fare è rappresentare questa tenda, dalla quale poi c'è questo sguardo della Wirtmüller, queste tende da cui poi dopo noi siamo stati catturati nel vero senso della parola, perché durante gli otto giorni di realizzazione del murales è successa questa piccola magia, cioè questo essere accolti, totalmente abbracciati dagli abitanti di questa strada, di essere, diciamo, inglobati all'interno della comunità, per cui il murales è risultato essere sempre di sfondo, come io ritengo sia giusto che sia, quando si tratta di arte urbana, di qualcosa che è calato spesso dall'alto per ovvi motivi di organizzazione, di progettualità, ma che poi dopo deve tener conto prima di tutto di chi quella strada la vive.